Salve a tutti signori, bentrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max e prepariamoci perché man mano che passa il tempo si avvicina sempre di più questa edizione numero 73 della Kermess musicale più attesa, insomma l'unica cosa di cui ci dobbiamo vantare, insomma, è Sanremo 2023. Sanremo 2023 edizione numero 73 della quale è quasi tutto pronto ed immancabili come ogni edizione sono i problemi, le varie polemiche e dinamiche che anticipano la Kermess, ma questa volta però a farci nel mezzo è un'artista molto amata e parliamo di Madame. Eh, già c'è stato di tutto su Madame e su questa storia, sì, proprio questa storia. La giovane sarebbe finita in mezzo al caso della dottoressa di Vicenza, Daniela Grillone, che avrebbe dichiarato falsi vaccini per l'ottenimento di Green Pass nei confronti di alcuni pazienti. Ma cosa c'entra allora Francesca Calearo che è in arte Madame? Ancora non si sa con certezza, ma da qualche ora non si fa che parlare di una sua presunta eliminazione del festival addirittura per questi motivi qui. Quanto c'è di vero in tutto ciò? Diciamo che per il momento lei è stata presentata proprio tra i big della Kermess di Amadeus, ma ora l'indagine, dice qualcuno, potrebbe metterla a serio rischio. Oh, parliamoci chiaro, l'indagine è in corso, questo sì. Ma entrando nel vivo della vicenda sembra davvero improbabile che la Rai e Amadeus stesso possano escludere un artista di tale calibro senza esserne certi al 100%. Non si può fare una cosa del genere. Ma in fondo, in Italia è previsto un concetto molto semplice quanto fondamentale, la presunzione di innocenza, signori. Insomma, fino a prova contraria, la ragazza deve essere considerata innocente. A rimarcare il suo punto di vista è anche questo concetto è lo stesso conduttore, nonché direttore artistico del festival. Amadeus, infatti, intervistato da RTL 125, ha dichiarato sulla vicenda e ha detto Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente. Quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro vivamente che tutto vada per il meglio. Beh, è una cosa che ci auguriamo anche tutti noi. Ma il posto di Madame non sembra per il momento a rischio. Le indagini per un illecito del genere sono sempre molto lunghe, molto complesse. Quindi la vicenda sarà quindi chiarita nelle sedi opportune e non di certo prima dell'inizio della kermesse musicale. Insomma, Madame per il momento può dormire sonni tranquilli, ci sembra almeno di capire questo. Non credo che ci sia altro quindi per il momento. Max vi saluta. Noi vedremo Madame a Sanremo senz'altro. Se ci sarà qualche cosa, spunterà dopo. Eh, ma dopo? A noi. Ma che ce ne frega? Infatti non ce ne frega niente, assolutamente. L'importante è che se fa Sanremo con tutti i big in gara. Noi vogliamo solo vedere chi vince, assolutamente. Poi per il resto ne possiamo discutere. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione di questo video. Max vi saluta e vi augura una buona giornata a tutti.